Benvenuti su Reality Italiano. E benvenuti a Temptation Island, edizione Vita Reale. Vittoria Egidi e Daniele De Bossis, la coppia che ha acceso l'ultimo falò dell'isola, tra mobili che volavano, e tradimenti in diretta hanno trovato la loro risposta d'amore. Daniele ha messo alla porta Vittoria, e come sembra, sta coltivando la relazione con Benedetta Pasquale. Tutta un'altra storia. L'intesa con Daniele all'interno di Temptation era alta e i due hanno continuato a frequentarsi anche dopo, ma... Tra nuove conferme ci sono segnalazioni che lanciano un grido d'allarme per Daniele. Metti un like ed iscriviti al canale per supportare Reality Italiano. Grazie. Cosa sta accadendo tra loro? È amore vero o è solo un gioco per guadagnare follower? Nell'episodio finale di Temptation Island, Vittoria e Daniele hanno scelto di porre fine alla loro relazione. Nel cuore di una Sardegna incantevole, avevano stretto legami con i loro tentatori. E se la vicinanza con Benedetta e Daniele sembrava solo un innocente gioco di sguardi e gesti affettuosi, le cose prendono una piega inaspettata quando si tratta di Vittoria Egidi ed Edoardo Coriano. Quest'ultimo ha catturato il cuore di Vittoria. Scatenando uno scandalo degno delle trame più avvincenti di Beautiful. Ma il vero colpo di scena arriva dopo la fine dello show. Benedetta e Daniele sono sempre più vicini e si stanno frequentando sempre più. La stessa Benedetta ne dà conferma con le sue storie diffuse sui social. Accompagnate da foto compromettenti, che mostrano Benedetta e Daniele insieme. E alle pressanti domande dei follower sulla relazione con Daniele, Benedetta risponde con una storia, dove le parole non arrivano, la musica parla. Fino a qui tutto bene l'amore sta sbocciando ed i nostri protagonisti sono felici, ma occhi e orecchie sono sempre tesi, nemmeno fossimo al grande fratello Vip. Un'indiscrezione trapelata attraverso Dejanira Marzano rivela nuovi dettagli sulla situazione. Sembrerebbe che Benedetta abbia già una relazione da tempo con un altro uomo, gettando un'ombra di dubbio sulla sua relazione con Daniele. La segnalazione è chiara e diretta, lei sta usando Daniele solo per aumentare i follower, e si legge anche che, lei lo ha definito uno sgorbio. A voi il giudizio. È davvero amore o solo una strategia per aumentare i follower? Ma quale verità trionferà alla fine? È solo mera finzione per alimentare l'Ipe sui social media?